Con Mauro Carbone dell'Ente Turismo gli chiediamo come sarà questa stagione del Tartufo 2021. Sarà una stagione che immaginiamo lunga, nel senso che un inizio è sicuramente tranquillo, dal punto di vista della produzione voglio dire, perché abbiamo avuto un'estate davvero molto asciutta e quindi non possiamo immaginare di avere tanti tartufi subito. È chiaro che il tartufo è un prodotto autunnale, quindi abbiamo tutto il tempo ad aspettare che piova e che nasca. Dal punto di vista del turismo ci aspettiamo invece un'ottima stagione, ci sono tante pronotazioni in arrivo, c'è stata una grandissima estate, mai avuto tanta gente come quest'estate e quindi pensiamo che sia davvero la volta buona di una ripartenza forte, almeno quanto prima. Stanno portando anche molti americani, avremo tolissuti dall'Europa, dalla Nord America, dall'Italia e quindi ci immaginiamo una stagione di grande successo.